restate lì se qualcuno ancora non ha capito cos'è il calcio 5 ve lo spieghiamo in questa partita sfida dei play out, gara unica, Casavatore contro Turris, Gaiotta contro Volpe, l'Eterno Guglielmo Loasses contro il gruppo del Casavatore che vuole riscattarsi dopo una stagione davvero in colore in porta da una parte pace dall'altra Cerino, subito l'occasione per Mazzarella poi lancio di Cerino, spizzata di Catapano 0 a 1 e il gol del vantaggio dopo 3 minuti degli ospiti prova a reagire il Casavatore con il destro di Crisci la parata di Cerino poi ancora questa iniziativa di Guglielmo Loasses con pace attento tra i pali attenzione al sinistro di Telemaco con il corpo Cerino poi ci prova la distanza ancora il Casavatore, la punizione di Loasses rimpallo favorevole su Catapano 0 a 2 dopo 6 minuti Turris avanti, ancora in avanti il Casavatore, prova a reagire il palo colpito da Varriale, poi di nuovo Varriale la palla è uscita quando Cerino poi fa una papera e finisce in porta ma non è gol, ancora Varriale, la parata di Cerino a mani aperte il Casavatore sempre con Varriale, poi Telemaco alto sulla traversa attenzione, sempre Varriale, questa volta cresce il destro sul secondo palo il gol dell'1-2 dopo 10 minuti, Loasses salvò la parata di pace poi ancora Loasses che colpisce l'esterno del palo attenzione a questa iniziativa, sempre della Torres con Filippo in prota sulla parallela per il numero 13 che calcia sul fondo qui c'è un'incertezza di pace, però tocca con la mano Piccirillo l'arbitro vede il fallo, poi Piccirillo chiede scusa e l'arbitro gli va a dare la mano per l'errore del numero 13 e per aver ammesso il fallo di mano qui il tentativo da distanza ancora della Turris poi risponde Telemaco calciando alto sulla traversa Loasses la puntata, incertezza di pace arriva alla rete dell'1-3 dopo 20 minuti cambio portiere, entra Rinaldi al posto di pace ci prova qui ancora Ferri, ripallo favorisce Pezzella il 2-3 dopo 21 minuti il Casavatore ancora in partita ma attenzione all'Oasses che benedice così l'ingresso in campo di Rinaldi con un destro dalla distanza ancora un gol di Loasses e sull'altra sponda Pezzella con un colpo di tacco al volo rimette di nuovo in piedi il match al 24esimo che partita in avanti ancora Mazzarella colpisce un clamoroso palo sull'uscita di Rinaldi poi Loasses ancora altro palo incredibile errore della Turris che va vicino al gol qui c'è simulazione di Iorio l'arbitro la vede e protesta della Turris ma giusta così poi arriva anche il cartellino giallo che chiude il primo tempo 3-4 il punteggio nella ripresa subito un tentativo di Catapano poi ancora quello di Mazzarella che calcia sullo fondo risponde il Casavatore sull'altra sponda cresce la palla per Luigi Mandragola rimpallo finisce fuori poi ancora l'iniziativa Telemaco non trova la porta attenzione qui con Pezzella all'uscita di Cerino poi il calcio di punizione di Alessandro in prota c'è una deviazione la palla finisce in fondo al sacco il gol dell'ex non esulta Alessandro in prota 3-5 il punteggio non ci sta il Casavatore ancora cresci dentro Bel Pezzella sempre lui il gol del 4-5 al nono minuto di nuovo equilibrio questa partita Guglielmo Loases la parata di Rinaldi tra i pali poi ancora il tentativo qui del Casavatore la ripartenza Loases guardate che fa guardate che fa questo calcettista veterano unico immenso il gol ancora del 4-6 poi Varriale sull'altra sponda risponde subito per il 5-6 al 14esimo minuto è una partita infinita una partita incredibile ancora in avanti il Casavatore ci prova qui con Rolando Mandragola niente da fare la palla finisce poi alta sulla traversa altra ripartenza qui ancora con il destro di Mandragola si salva Loases con il corpo poi la ripartenza qui tutto al volo la conclusione alta sulla traversa di Luigi Mandragola dopo questa iniziativa tutta volante poi ancora il destro di Rolando Mandragola sulla trasponda Loases ancora lui arriva la palla del 5-7 al 22esimo che partita di Guglielmo Loases sembra mettere il sigillo al match e invece lo chiude almeno sembra definitivamente Catabano quando il cronometro segna il 24esimo la rete del 5-8 signori miei ma questo è il futsal questo è il calcio al 5 mai dire mai non finisce la partita non si cala il sipario con il gol di Pezzella forse una spinta ma sembra più che altro che si è liberato con astuzia il bomber del Casavatore in porta ci va Mandragola schierato portiere di movimento arriva il gol di Ferri quello del 7-8 al 27esimo neanche il tempo di pensare di avere la salvezza in tasca che la Turris adesso ancora l'occasione per chiudere il match quando il cronometro segna il trentesimo attenzione col portiere di movimento ultimo assalto finale del Casavatore arriva il gol di Telemaco quello dell'8-8 dal 27esimo al trentesimo dal 5-8 all'8-8 che partita signori miei questo è il calcio al 5 la disperazione di Guglielmo Loassess la gioia di Pezzella si va all'overtime tempi supplementari due tempi di 5 minuti ciascuno calcio di rigore per questo fallo di mano in aria di Filippo in prota che protesta ma l'arbitro decide per il penalty si incarica della battuta Danilo Variale è il gol del sorpasso il primo sorpasso del match il 9-8 al trentaseiesimo e poi attenzione nel secondo tempo supplementare ancora questa iniziativa di Guglielmo Loassess con pace che è rientrato in porta per l'infortunio di Rinaldi poi arriva invece il gol di Telemaco quello che chiude praticamente la partita quello del 10-8 c'è ancora l'11-8 di Variale può esplodere la festa del Casavatore l'incubo fino a tre minuti dalla fine della retrocessione con una grande toris con un immenso Guglielmo Loassess che non è bastato il team di Rosario Volpe per raggiungere la salvezza e può festeggiare il Casavatore con il suo presidente un presidente un presidente e solo un presidente un presidente e solo un presidente un presidente è americo perché se avessimo giocato con questa intensità e con questa voglia durante l'arco almeno da quando ci sono arrivato io sulla panchina della Turris sicuramente oggi non ci saremmo trovati qui a giocare questa partita ci saremmo salvati anzitempo con molta facilità purtroppo Guglielmo Loassess come ben sai non lo ha avuto per otto giorni di squalifiche più uno che aveva avuto un malore quindi praticamente non l'ho quasi mai avuto lasciami dire che c'è stato un arbitraggio almeno da parte di uno dei due a dir poco casalingo perché se no nonostante tutto noi l'avremmo portata a casa la partita perché c'è stato un fallo netto su Alessandro in broda Peppe Pezzella proprio si è visto chiaramente era proprio davanti a me l'ha spinto l'ha sbilanciato poi si è aggiustato la palla e ha fatto go e l'arbitro era proprio a due metri c'è stata una diversa interpretazione delle situazioni il nostro pivò come andava cercava di difendere pallo di prendere posizione ci mischiava a farlo conto da quest'altro lato il padre era sempre a favore loro ovunque lasciava correre non ci sono problemi la categoria non fa differenza l'importante è che ci sia un progetto serio in genere finivamo tutti i primi tempi in vantaggio per poi farci riprendere nel secondo tempo oggi è stato all'inverso abbiamo perdevamo nel primo tempo nel secondo tempo invece siamo usciti fuori anche se siamo arrivati con uno svantaggio di tre gol però io ci credevo fino alla fine perché poi non può andare sempre storta una volta la Dea bendata ci è venuto incontro e ci ha aiutato io pensavo di mettere la partita su questo piano sul ritmo e sull'intensità perché è una squadra lenta e invece sono riusciti a venire fuori insomma la grande complimenti a loro che ci hanno ci hanno messo in difficoltà insomma a merito a loro non meritavano forse questa sconfitta se ci sono i presupposti per fare bene e per fare meglio di quest'anno allora lo si porta avanti se no insomma più amici di prima ognuno prende la sua strada hanno messo quello che durante l'anno non sono riusciti a mettere e li ringrazio perché sicuramente alla fine le retrocedere oltre danno la beffa perché è patetico già secondo me questa squadra non era da questa però sono tante situazioni tante cose concomitanti li ringrazio anzi devo fare un plauso non parlo mai dei singoli giocatori però secondo me Pezzella è variale ma specialmente Pezzella senza che me ne voglia Danilo una spanna al di sopra perché non ha giocato con la forma fisica ma ha giocato con il cuore e forse secondo me lo sport è fuduto questo sport c'è bisogno di gente che giochi con il cuore non soltanto per altri interessi io sicuramente io non ho intenzione di seguire perché il Casavatore resterà ci saranno qualche persone che lo seguirà ci saranno persone che vogliono investire e sono contento che vogliono farlo perché io da solo non ce la faccio più e non posso essere più in prima linea non ci sarò sicuramente io per vari motivi possiamo anticipare qualcosa di chi vuole prendersi in mano non sono persone che calciacinue dovrebbero fare qualcosa altre persone cercare di mantenere un gruppo rafforzarlo però sono cose che andremo a vedere spero di rimanere tutto lo staff dirigente perché alla fine al di fuori dei risultati che non sono venuti però hanno messo un grande impegno io non era questo il cambio le volevo però diciamo che sono un po' nauseato da tante situazioni perché non per fare polemiche non voglio farle polemiche però le faccio in questo momento anche determinate cose che appaiono sul tuo sito dopo una settimana sono vergognose di fatto hanno portato hanno portato problemi qua che chissà forse credeva c'erano i lupi non è successo niente non succederà mai niente le persone dovrebbero prima di parlare dovrebbero razionare il cervello tu hai riplegato già intenzione di dire qualche altra cosa riplegato di nuovo perché secondo me una persona che fa una dichiarazione dopo una settimana è pietosa le desigrazioni si fanno il giorno dopo non si fa dopo una settimana aspettando prima che la Lega mi punisca con quelle cose mie ideate che piacciono tanto ai signori dell'Epanto comunque è finita perché tanto non voglio vedere nessuno voglio stare tranquillo in casa vengo a vedere le partite se posso altrimenti ho finito ringrazio i giocatori e sicuramente saranno tutelati sarà un gruppo forte una squadra forte è tutto